Sì, sicuramente non posso che essere soddisfatta di questo Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale molto partecipato, convocato su richiesta della minoranza, sulla quale però abbiamo dato subito ampia disponibilità, proprio perché il Consiglio Comunale è il luogo più adatto dove parlare dei problemi della cittadina ma anche del territorio. Il fatto che si parlasse dei problemi non solo di Quornier ma dell'intero territorio è stato dimostrato questa sera proprio dalla presenza di tanti tanti sindaci del Canavese. Devo dire che mi ha fatto molto piacere avere comunque la solidarietà dei colleghi proprio perché questa è una battaglia, quella per il potenziamento e il rilancio della nostra struttura ospedaliera che va portata avanti a livello di un intero territorio. Non è una questione che riguarda solo Quornier, è una questione sulla quale dobbiamo lavorare tutti insieme. Questa sera abbiamo chiesto più volte, abbiamo fatto più volte un appello all'unità. Devo dire che è stato raccolto da praticamente tutti, quindi ben vengano gli apporti del sindacato. Come abbiamo detto anche nel corso della serata, la scorsa settimana si è svolto un primo incontro di questo tavolo tecnico sulla salute, sul welfare e sul lavoro. Un tavolo tecnico al quale hanno preso parte innanzitutto tutte le sigle sindacali, ha dato la propria disponibilità a partecipare la città metropolitana di Torino e anche l'ordine dei medici. Noi vorremmo estendere questo tavolo a tutte le forze sociali, in modo tale davvero da creare un unico organismo che riesca a supportare il nostro ospedale e a supportare tutto il territorio. Quindi sì, sono contenta e direi che è stato veramente un buon inizio. Una solidarietà anche sia dai componenti della minoranza che da tutti, direi, anche sulla risposta non troppo educata, se possiamo dire, ricevuta dall'assessore alla sanità della regione Piemonte. Sì, diciamo che è una risposta molto piccata che mi ha lasciato abbastanza senza parole, proprio perché in qualità di sindaco ho svolto solo il mio dovere, che era quello di convocare un consiglio comunale su richiesta della minoranza, ma anche qualora fosse stato convocato come il primo consiglio comunale aperto su iniziativa della maggioranza, sarebbe comunque un atto istituzionale, un atto istituzionale che ogni sindaco compie nell'esercizio dei propri doveri e delle proprie facoltà. E quindi sinceramente sì, mi è sembrato un po' eccessiva questa risposta, poi per carità ognuno ha il proprio modo di agire, e certo che però il ruolo di un assessore regionale dovrebbe avere, forse avrebbe dovuto utilizzare altri modi, ma comunque va bene così. Mi spiace che questa sera appunto la regione non fosse presente, questo senz'altro proprio perché ci siamo posti tante domande, abbiamo fatto tante congetture, ma non abbiamo avuto nessuno che desse delle risposte su quella che è effettivamente la portata di questo studio e su quello che sarà soprattutto, al di là dello studio, il futuro del presidio ospedaliero di Quarnier. Danilo Armanni, consigliere di moderati indipendenti, oggi consiglio comunale aperto con un tema molto importante, quello dell'ospedale di Quarnier e del pronto soccorso. Una posizione, quella della minoranza, che si è sentita anche vicina a quella che è l'amministrazione comunale, con un obiettivo comune che è quello di portare alla riapertura del pronto soccorso e a rivitalizzare l'ospedale cittadino. Sì, devo dire che l'intervento da ultimo messo in atto dall'amministrazione regionale ad opera dell'assessore alla sanità Icardi è stato insomma criticabile perché si è scagliato contro il sindaco di Quarnier e quindi per inciso ha compattato l'opposizione nella volontà di richiedere questo consiglio comunale aperto, di parlare di questo argomento e l'ha compattato anche intorno alla figura del sindaco che normalmente ci troviamo in supposizioni abbastanza contrastanti ma in questo caso l'attacco che ha ricevuto non può che causare la nostra solidarietà. Anche perché abbiamo visto questa sera che c'è una forte coesione da parte del gruppo come si chiama, zona 8 e questo è il gruppo omogeneo, città metropolitana di cui il sindaco di Quarnier porta a voce quindi è importante avere questa unità di visione, unità di intenti anche se purtroppo poi in occasione della votazione sull'individuazione del sito tribunale ospedale di Ivrea ha avuto la minoranza, il cannabis occidentale ma questo in virtù del fatto che i sindaci dei comuni più pesanti come numero di abitanti hanno avuto il sopravvento però già un'unità di intenti, un'unità politica di questo tipo è importante, è importante partire da basi come questa per portare avanti queste istanze che poi ci auguriamo che in un modo o nell'altro vengano prese in considerazione dalla regione. Una coesione anche come si è vista stasera sia dai gruppi sindacali che tutti coloro che hanno sono intervenuti con un'unica volontà appunto che è quella di riportare l'ospedale di Quarnier al centro del suo territorio. Ma in questo territorio mi chiedo come possa sorgere il dubbio sulla utilità di un pronto soccorso e di un presidio ospedaliero può sorgere giusto dei soggetti che stanno a Milano che non hanno assolutamente nessuna esperienza di territorio, di amministrazione e quindi anche lì l'uscita della regione è stata abbastanza improvvida perché non puoi portarmi uno studio uno studio si presuppone che abbia un fondamento scientifico poi due giorni dopo tu assessore dirmi vabbè non ne terremo conto perché o è una cosa che serve all'amministrazione ma come interna agli uffici per prendere delle decisioni altrimenti non lo metti sui giornali e due giorni dopo ritratti dicendo che no, non seguiremo questa strada faremo diversamente perché assolutamente sono posizioni da non prendersi in considerazione. Una rete, quella tra i sindaci una rete di coesione può essere effettivamente la chiave giusta la chiave di lettura giusta per cercare di arrivare alla riapertura comunque avere delle risposte chiare sia dall'ASL che dalla regione che da chi li deve Ma senza dubbio anzi i sindaci del territorio individuandone la collega collega intendo avvocato, Cresto la figura di rappresentante portavoce hanno fatto una scelta opportuna perché lei comunque ha gli strumenti anche culturalmente è una persona preparata e idonea a essere messa di fronte a questo tipo di trattative quello che io solleciterei alla collega Cresto è di aprirsi un po' di più nei confronti delle nostre attività di opposizione come diceva collega Pieruccini la maggioranza lo ha un po' boicottato l'anno scorso in occasione della sua raccolta firme in questa sede vabbè, insomma certi attriti per forza poi rimangono in piedi però ciò non toglie il fatto che sia assolutamente importante che questa coesione si formi e che tutti lavoriamo nella stessa direzione se uno che rema da una parte e uno da un'altra non andiamo da nessuna parte ovviamente quindi questo è quello che auspicchiamo anche noi poi un'altra cosa molto importante in questa fase ricordo che siamo senza un'assessore alla sanità a Quornier perché l'assessore in carica ha già dismesso le deleghe le ha revocato le deleghe per motivi di incompatibilità secondo me sarebbe opportuno in questa fase che è molto molto delicata dei rapporti con la regione magari individuare un altro soggetto insomma in maggioranza ci sono tanti soggetti ci sono anche altre persone che potrebbero assumere questo incarico perché il sindaco ne ha già troppe di deleghe al bilancio che insomma assorbirebbe uno studio di commercialisti per tutto l'anno quindi questo è un suggerimento che mi permetto di dare insomma a